Il questore Pinuccia Albertina Agnello ha emesso sette provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. Il questore Nisseno, previa istruttoria della locale divisione Polizia Anticrimine, ha emesso sette provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di sette persone che si sono rese responsabili di condotte illecite nel territorio Nisseno. Nei confronti di tre persone sono stati emessi provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta per un periodo di tre anni. I predetti, tutti gravati da precedenti di polizia, non sono residenti nel capologo Nisseno, non svolgono alcuna attività lavorativa e non hanno interessi o legami di alcun genere in città. I fogli di via sono stati adottati nei confronti di un 36enne residente in provincia di Catania che è stato arrestato dalla squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 33enne senza fissa dimora arrestato dai poliziotti del posto Polferi di Caltanissetta per resistenza a pubblico ufficiale e un 38enne residente in provincia di Siracusa denunciato per commercio di prodotti contraffatti. Non ci sono soltanto fogli di via fra i provvedimenti emessi. Il questore ha emanato anche provvedimenti di natura più lieve, fra cui anche due provvedimenti di avviso orale nei confronti di pregiudicati ninseni, ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e due provvedimenti di ammonimento nei confronti di persone ritenute responsabili di aver posto in essere condotte persecutorie nei confronti delle proprie compagne. Si tratta in questi casi di residenti in città o nella provincia. Grazie. 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 Grazie.